Ciao bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi, sesta parte del Bookshelf Tour 2020, che probabilmente sfocerà nel 2021, non lo so. Con oggi concludiamo finalmente questa libreria, no, questa, questa, questa qui, perché vi mostro lo scaffale dei fumetti, che è l'unico che è rimasto, che non vi avevo ancora mostrato, ma andremo avanti con l'altra libreria, questa qui più vicino a me, questa, per mostrarvi altri due scaffali. Quindi vi mostrerò tre scaffali di fumetti, oggi ci dedichiamo ai fumetti. Dopodiché concluderemo questa libreria con altri due video, uno dedicato a Shadowhunters, perché ci sono ben due scaffali dedicati a Shadowhunters, e un altro video vi mostrerò i tre scaffali e mezzo, quattro, che rimangono per finire finalmente le librerie dietro di me. Poi, prossimamente, ci saranno altri due video con tutti gli scaffali dedicati a tanto altro, classici, fazzi, fantasy, twilight, e non solo, di tutto un po', che sono quelli di fronte a me, sopra la mia scrivania. Quindi finalmente concluderemo le librerie dietro di me e andremo avanti a me. Anyway, c'è una playlist dedicata al Bookshelf Tour del 2020-2021 ormai, e potete vedere tutti gli altri scaffali in quella playlist. Ve la lascio nelle schede, spero che questa parte dedicata ai fumetti vi piaccia. Cominciamo. Dunque, oggi andremo a concludere questa libreria, i cui scaffali e manga in alto vi ho mostrato nei precedenti due video del Bookshelf Tour. Quindi andremo a vedere l'ultimo scaffale, e poi ci sposteremo finalmente in quest'altra libreria, e vedremo questi due scaffali. Questi tre scaffali sono quelli dedicati ai fumetti, alle graphic novel. In alto in alto vi ho già mostrato i manga, dopodiché, dalla prossima volta, finalmente, concluderemo questa libreria, e tutte le librerie che ho dietro di me da in video, perché vi farò vedere la parte dedicata a Shadowhunters, e poi tutti gli altri scaffali, questi qui. Andiamo comunque a iniziare da questo. Allora, questo è il primo scaffale dedicato a tutti i fumetti che posseggo, fumetti graphic novel. Andiamo a vedere tutti questi fumetti, non sarà semplice. I primi due fumetti sono quelli di Skydoll, di Barbucci e Canepa. Il primo volume è La Città Gialla, che ho anche con uno sketch dell'autore, e poi Acqua. In realtà questa è una serie che conta o 4 o 5 volumi della Baupublishing, però non l'ho continuata perché non mi stava entusiasmando, sebbene i disegni siano stupendi, in quanto Barbucci è anche stato disegnatore delle Witch, per dirne una. Ci sono poi due fumetti molto grandi, che riguardano Topolino, Limited Deluxe Edition, comprati al Comic-Con, o forse al Salone del Libro? Credo più al Salone del Libro. Comunque, rivisitazioni di grandi storie. Dracula, di Bram Topker, e l'Isola del Tesoro. Il primo l'ho preso perché amo Dracula, e c'era anche a colorare Mirka Andolfo, che è un'altrice che mi piace un sacco. Il secondo l'ho preso perché invece dietro l'Isola del Tesoro, nella versione di Topolino, ci sono Teresa Radice e Stefano Turconi, che io amo un sacco, lo sapete. Ci sono poi questi due volumi, che io non ho ancora letto. Due fumetti giganteschi, con disegni spettacolari. Il Castello delle Stelle, primo e secondo volume, di Oscar Inc., quindi della Mondadori. Ahimè, non ho ancora letti. Fatemi sapere se li avete letti e se me li consigliate, anche se già me li consigliano in tanti. Devo solo trovare il momento giusto per leggerli. Poi L'età del loro, primo volume di Cyril Pedrosa e Roxanne Morel. Un graphic novel, un fumetto spettacolare, fantasy. Probabilmente quando vedete questo video sarà già uscito il secondo volume, mi sarà già arrivato e l'avrete già visto su Instagram, però... Questo è il primo, al momento solo questo, ma a giorni uscirà il secondo. Abbiamo poi due fumetti about publishing molto belli. In particolar modo mi è piaciuto un sacco un'estate fa, di Zidro e Giorgi Lafebvre, che parla appunto di estate, di primi anni, di infanzia e adolescenza, durante l'estate, e Iperurania, mi piacque anche abbastanza, di Francesco Guarnaccia, qui siamo in un fantascientifico. Abbiamo poi due fumetti della Tunue, Water Snake, di Tony Sandoval, che onestamente non mi fece impazzire, invece uno dei miei preferiti è proprio Il piccolo Caronte, di Sergio Argozzino e Deborah Allo, bravissimi, che hanno scritto anche un altro, parleremo fra poco. E questo qui è appunto uno dei miei preferiti, mi è sempre piaciuto un sacco, è stato uno dei primi graphic novel in realtà che ho letto, ma rimane nel mio cuore, ed è un retelling ovviamente della storia di Caronte. Abbiamo poi Notte e Tempo, di Luca Russo, e Echi Invisibili, di Tony Sandoval, e Grazie alla Padula, che mi è piaciuto molto di più di Water Snake. E anche Notte e Tempo è una storia un po' cupa, ma molto bella. Come vi dicevo, Sergio Argozzino e Deborah Allo ritornano in Mirna e il tocco della morte, un'altra graphic novel bellissima, ve la straconsiglio, insieme al piccolo Caronte. Mentre abbiamo poi Gerd, La ragazza nella nebbia, di Francesca Carità e Marco Rocchi, che ricorda un po' un cartone animato, ci vorrebbe anche un libro per giovani ragazzi, perché è veramente una storia molto particolare, che ricorda appunto i veri e propri cartoni animati. Ci sono poi tre graphic novel, di cui una, quella al centro in inglese, ma in realtà sono tutte e tre della Bao Publishing in italiano. La prima è Neon Brothers, di Alice Berti, che mi è piaciuta tantissimo, una delle ultime, tra l'altro. Nimona, di Noelle Stevenson, che è bellissima, perché parla di una spalla destra di un cattivo. E Il cubo di mille mondi, di Lufio, che un po' come Gerd, per me merita un libro, comunque merita tantissimi sequel, perché l'autore, un giovane autore italiano, ha creato un mondo pazzesco, una storia pazzesca e spero tanto di avere presto dei seguiti. In alto abbiamo una serie di graphic novel della Tunue, della colana Tipi Tondi, per i più piccoli. Daisy, di Marco Barretta e Lorenza Di Sepio, che conoscerete per gli altri suoi lavori, che mi è piaciuta tantissimo, parla dell'amore per le storie e tanto altro. Victoria, di Gaia Cardinali, stupenda, soprattutto per quanto riguarda i disegni e i colori. E Claire e Maru, di Tauro e Caricola, che è molto molto dolce. Le ultime tre dei tipi tondi sono La principessa che amava i film horror e altre storie di principesse, dolcissima, uno dei miei fumetti preferiti, Viola Giramondo, di Radice Turconi, ovviamente. Questa è la prima edizione della Tunue, a breve vi mostro la nuova edizione Bao Publishing, e poi La spaventosa paura di Epiphany Freyers, molto molto dolce. Anche questa parla appunto di superare le proprie paure. Arrivo adesso a mostrarvi tutte le graphic novel che posseggo, Bao Publishing, di Teresa Radice e Stefano Turconi. Prima vi ho mostrato Viola Giramondo nella sua vecchia edizione, perché inizialmente era stata pubblicata da Tunue. La Bao quest'anno, se non ricordo male, al massimo l'anno scorso, l'ha ripubblicata in una nuova veste con contenuti extra, e quindi ecco qui Viola Giramondo e poi Tosca dei Boschi. Questa è una cover esclusiva che prendemmo a Lucca Comics. Bellissimi, bellissimi entrambi, io vi consiglio tutto di Radice Turconi. Sempre di questi due autori abbiamo poi Il Porto Proibito, nella Artist Edition, e Le Ragazze del Pillar, che è una storia legata a quella del Porto Proibito. Bellissimi, stupendi, vi straconsiglio ovviamente prima Il Porto Proibito, e poi Le Ragazze del Pillar, che avrà anche un altro volume. Una storia molto particolare, in cui potrete sognare, è bellissimo. Ma arriviamo a quelli che secondo me sono i pezzi forti. La mia graphic novel preferita in assoluto, in generale, ma davvero in generale, è proprio questa. Non stancarti di andare. Non so descriverla in poche parole, trovate sicuramente un video o un wrap-up in cui ne parlo, ma a priori ve la consiglio, è anche molto attuale. E poi anche La Terra e il Cielo e i Corvi, di cui vi ho parlato nell'ultimo wrap-up, è sensazionale. A livello di importanza della storia, credo siano sullo stesso livello, anche se per me Non Stancarti di Andare avrà sempre il primato. Ci sono poi i due volumi di Indomite, di Penelope Bajot, storie di donne che fanno ciò che vogliono. Sempre fumetti importantissimi da leggere. Su questo scaffale ho poi questi due fumetti di Zero Calcare, tutti gli altri sono accanto perché un po' più bassi, questi sono i più alti, Cobane Calling e 12. 12 è l'unico che non mi ha fatto impazzire, sono onesta. Ci sono poi tre volumi di Monstress, e da poco è uscito il quarto, di Marjorie Liu e Sanatakeda, un fumetto molto particolare che unisce Giappone e America, che unisce tanti sottogeneri del fantasy. Mi è piaciuto un sacco, c'è anche un video dedicato sul canale, magari ve lo linko da qualche parte. Comunque, volume 1 Risveglio, 2 Sangue e 3 Rifugio, cover bellissime. E appunto da poco è uscito il quarto, per Oscar Inc. Mondadori. Vi sono poi Selene e Ella, Dear My Gravity, di Miba Joss Prigg, che mi è piaciuto tantissimo, una storia fra due adolescenti, ma è veramente dolcissima, importante. I racconti dei vicoletti, nella collana di Bao, che riguarda la Cina, e mi sono piaciuti tantissimo, dolcissimi, storia di nonno e nipote, e i racconti appunto del nonno, questa sua nipotina, ma non solo. E Ruby Falls, di Anno Senti, Lee Lowridge e Flavia Biondi, che purtroppo mi ha un po' deluso, nonostante io ami tantissimo Flavia Biondi, apprezzo di più un'altra sua graphic novel, di cui parleremo dopo. Ci sono poi i due volumi di Aiuto, di Isaac Friedl e Yi Yang. Aiuto, aiuto fratelli. Sono delle graphic novel molto forti, a livello di tematiche, come potete ben vedere, già solo dalle copertine. Ve le consiglio, perché importanti per riflettere, ma siate pronti a delle scene, non facili da digerire. Sempre per la collana cinese, abbiamo Vagabondaggi, collana cinese della Bao ovviamente, di Zhao Dao, che mi è piaciuto, soprattutto perché tantissimi racconti, riguardano la cucina, e mi faceva venire un sacco fame in maniera positiva. E poi la Belgica, di Tony Bruno, Il canto delle sirene. Molto bello, ci sarà un secondo volume sicuramente. Parla di una storia vera, di una spedizione su nave vera, molto particolare. Concludiamo questo primo scaffale dedicato ai fumetti, con Kids with Guns. Tutti e tre i volumi, di Capitano Artiglio, che è una graphic novel particolarissima, che unisce Dinosauri, Far West e Fantascienza. Ve la straconsiglio, ricorda un po' Stranger Things, e è bellissima. Capitano Artiglio è stato un genio. E siamo arrivati al secondo scaffale, siamo praticamente spostati sulla destra. Qui ci sono tantissimi fumetti, vi mostro prima quelli in alto. Quelli più piccini sono I gatti della scrittrice, di Edizioni E.O., di Muriel Barberi e Maria Guitar, Il fumetto secondo Cliff, che era un modo di celebrare i dieci anni di Bao, con tutti i Cliff disegnati da tutti gli autori, Bao Publishing ovviamente, e Sob, di Scarabocchi, di Michael e Mirko. Sono poi Il mare verticale, di Brian Freschi e i laurei urbinati, bellissimo, che parla di problemi alla salute mentale. Perra Oscar Inc., Le mirabolandi avventure di Lovelace e Babbage, la storia quasi vera del primo computer, non l'ho ancora letto, e Due monete di Nuria Tamarit, ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up, bello, ma mi aspettavo qualcosa di più. Ci sono poi Sempre pronti, di Vera Brosgold, dolcissima graphic novel su una ragazzina che va in campeggio e non si trova all'inizio molto bene, Marta Baroni, Uma del Mondo di Sotto, bellissimo, fantasy, che mi ha ricordato molto la mitologia norrena, e poi una delle mie graphic novel preferite, la metto subito dopo Non stancarti di andare, Il principe e la sarta, di Jen Wang, importantissima, che parla di cross-dressing e non solo. Tematiche davvero importantissime in una storia dolcissima. Queste quattro invece sono Senz'ombra, bellissima, della collana Babao, di Michele Monteleone e Marco Matrone. Se avete amato Percy Jackson, amerete anche Senz'ombra e anche qui ci vorrebbero dei libri o un cartone animato perché è troppo bello. La principessa spaventapasseri che non mi fa impazzire, onestamente. Questa la compro io per risconti, sempre della collana Babao, però mi deluse un po' rispetto agli altri acquisti che feci. E poi abbiamo di Baronciani, sia le ragazze nello studio di Munari che mi piacciono un sacco, sia Negativa, che invece mi deluse un po'. Ebbene, qui abbiamo queste quattro graphic novel. Mettendole vicine mi rendo conto che hanno tutte e quattro le cover bianche più il protagonista o comunque uno dei protagonisti in copertina. Bellissime. Allora, Jane è un retelling in chiave moderna di Jane Eyre, quindi a priori ve lo straconsiglio, ma poi mi è piaciuto un sacco e mi ricorda il modo in cui ha disegnato i fumetti Marvel. La tettonica delle placche che è un fumetto bellissimo, dolcissimo, divertente, che però fa riflettere, che parla di questa freelancer che appunto disegna per vivere una giovane mamma con una vita un po' particolare ve la straconsiglio. E poi AXA, primo e secondo volume di Niccolò Pellizzoni, il terzo arriverà a inizio anno. Un fantasy molto particolare. Veramente anche qui un po' come Capitan Artiglio l'autore è stato bravissimo. Di Veronica Veci Carratello abbiamo sia Sognando Elvis sia Freezer. Fra i due ho preferito molto di più Freezer, anche se pure Sognando Elvis è molto simpatica come storia. E adesso arriviamo a lui, il mio amato Zero Calcare. Ebbene, Dimentica il mio nome, stupenda, Macerie prime e Macerie prime sei mesi dopo. La scuola di pizza in faccia del professor Calcare e Scheletri ultimo volume che ho letto al momento di Zero. Abbiamo poi La profezia dell'armadillo che è il fumetto da cui vi consiglio sempre di iniziare per quanto riguarda Zero Calcare leggete Zero Calcare se vi piace in ordine cronologico quindi La profezia dell'armadillo poi c'è Un polpo alla gola Ogni maleletto lunedì su due e l'elenco telefollico degli accolli. Last but not least ho da poco comprato A Babbo Morto una storia di Natale che leggerò a dicembre. Ci sono poi Ramo di Silvia Vanni che è una storia che mi è piaciuta tantissimo straconsigliata e Gli anni che restano di Brian Fereschi e Davide Auridia anche questa molto bella molto dolce. Di Giopota abbiamo Sia un anno senza tessi a Inni alle stelle e vi giuro che non saprei quale consigliarvi perché le ho amate tantissimo entrambe. A livello però di tavole Inni alle stelle ha delle tavole spettacolari che mostrano il cielo stellato e non solo e avevo gli occhi pieni di meraviglia. Ho preso poi i tre lavori di Giulio Macaione che è un altro dei miei autori Bao preferiti perché amo il suo modo di disegnare e raccontare. Amo sia il modo in cui disegna i volti sia i luoghi. Il primo che ho letto è stato Basilico che è una sorta di thriller molto particolare. Poi ho amato tantissimo Stella di Mare che riguarda le sirene e Alice di Sogno in Sogno che è un po' più sul fantasy e sono tutti e tre bellissimi. Io adoro Giulio Macaione. Abbiamo poi Nina che disagio che è una delle mie graphic novel preferite di Ilaria Palleschi. Amo l'autrice amo il modo in cui disegna in cui racconta Nina e la nostra generazione praticamente. Ci sono tantissime citazioni di Friends che danno punti in più alla graphic novel. Papaya Salad di Elisa Macellari dolcissima graphic novel e Umberto di Oldenaccio che mi è piaciuta ricorda anche in questo caso un po' Stranger Things e sono molto proud perché Oldenaccio è pugliese come me. Ma arriviamo a lui. Daniel Queglio sicuramente avrò sbagliato a pronunciare il suo cognome perché solo lui sa come si pronuncia il suo cognome. un altro autore Bao che ho imparato ad amare ed è diventato uno dei miei preferiti Residenza Arcadia Guardati dal Beluga Magico che è il mio preferito è Mercedes. Allora abbiamo poi due storie molto belle più mature ecco Conti Chiamo domani di Rita Petruccioli e di Flavia Biondi che vi ho citato prima La Giusta Mizzura fra le due ho preferito questa qui io adoro Flavia Biondi e ho amato La Giusta Mizzura e il modo in cui disegna e racconta Poi abbiamo una grafica Babau per più piccolini Cinque Mondi Il Guerriero di Sabbia dovrebbe essere uscito il secondo volume che devo ancora recuperare è un fantasy per giovani e poi Melvina di Rachele Aragno che ho amato un sacco che mi ha ricordato storie del genere di Alice nel Paese delle Meraviglie Il Mago di Oz La Storia Infinita se amate questo genere di storie amerete anche Melvina Abbiamo poi Vivi e Vegeta un noir vegetariano il secondo volume Odio di Palma di Savino e Simeone che ahimè non ho ancora letto penso che lo farò presto Abbiamo poi per concludere quest'altro scaffale i volumi di Alberto Madrigal Allora il primo è Pigiamacomputerbiscotti che parla dei primi anni da genitore dell'autore è molto bello è autobiografico in realtà anche un lavoro vero è autobiografico in quanto parla del lavoro della tematica del lavoro e in realtà insieme a Va tutto bene Berlino 2.0 Madrigal si è sempre occupato nei suoi lavori di parlare proprio del lavoro della professione del trovare un lavoro molto belli molto attuali e anche Madrigal mi piace molto come autore Bao visto che prima vi ho mostrato Babbo Morto un ultimo acquisto essenzialmente vi mostro anche questi tre fumetti che insieme a Babbo Morto e Zero Calcare sono sul mio comodino al momento quindi Tu sei il più bel colore del mondo di Golo Zhao della collana cinese di Bao di Victoria Schwab Shades of Magic Il principe d'acciaio l'ho acquistato di recente non vedo l'ora di leggerle un prequel di A Darker Shadow Magic e poi Pumping Heads di Rainbow Rowell per Oscar Inc. E arriviamo quindi all'ultimo scaffale anche qui ci sono una marrea di fumetti quindi cominciamo subito a vederli abbiamo Zanne di Sarah Anderson conosciuta per Sarah Scribble ve ne ho parlato di recente su Instagram ne parleremo nel wrap up di novembre è un graphic novel che mi è piaciuto un sacco una storia d'amore tra una vampira e un lupo mannaro poi Junkie Cable di Claudio Avella un nuovo autore io sono Dragon Ball di Akira Toriyama quindi i primi volumi del manga di Dragon Ball formato fumetto e in cucina con Kafka di Tom Gold con una serie di vignette molto carine i primi fumetti che sono presenti su questo scaffale sono Francis di Luputin che parla di streghe e Dil Raven Sage di un'autrice emergente che si è autopubblicata ci sono poi questi due fumetti che riguardano Loki il primo mi è stato preso direttamente in America da dei miei amici che sanno che vado matta per Loki il secondo l'ho presi io ed è Loki Agent of Asgard ci sono poi questi due volumi le spose proibite degli schiavi senza volto nella segreta dimora notturna dell'oscuro desiderio un titolo più breve veramente non potevano trovarlo a quanto pare di Neil Gaiman e Sheik O'Akley non mi ha entusiasmato come volume e poi invece le cronache di Under York la medizione di Sylvain Rundberg e Mirkan Dolfo che mi è piaciuto un sacco e non vedo l'ora che vadano avanti ormai è passato più di un anno abbiamo poi due volumi di fumetti in copertina rida della Marvel X-Men Legion che comprai per avere l'autografo della attrice di Legion che incontrai al Comic Con e Loki Journey into Mystery primo volume rinascita ci sono poi i primi tre volumi per la Oscar Inc. Mondadori di American Gods di Neil Gaiman non li ho ancora letti ma cercherò di farlo prestissimo per farmi un'idea finalmente di questa storia sempre per la Oscar Inc. Mondadori abbiamo Fan Manifique mi è piaciuto tantissimo in quanto si parla di 50 donne che hanno cambiato il mondo abbiamo due fumetti per edizioni BD Perkeros Diabolus in musica che non mi ha entusiasmato invece ruggine è veramente bellissimo torniamo a parlare di To Noé To Noé con una delle mie autrici preferite Simona Binni quindi Silverwood Lake e la memoria delle tartarughe marine ve li straconsiglio entrambi un sacco e anche The Money Man è la vera storia del fratello di Walt Disney ve lo consiglio se siete amanti come me della Disney altri quattro volumi della To Noé allora il ritrovo degli inutili di Paola Camoriano mi piacque un sacco per quanto riguarda le tematiche Pistuvì onestamente mi deluse un po' Morgana è bellissimo ovviamente è la storia di Morgana nelle leggende arturiane per sempre è una storia molto bella che parla di adolescenza abbiamo poi quattro Oscar Inc. Mondadori il primo è La Fattoria degli Animali di George Orwell la graphic novel del libro uno dei miei classici preferiti e sulla stessa scia c'è anche Il Buio Oltre la Siepe io non ho mai letto Il Buio Oltre la Siepe quindi penso che leggerò prima il graphic novel di Harper Lee con l'adattamento di Fred Foreman poi abbiamo Trottole di Tilly Walden che mi è piaciuto tantissimo si parla di pattinaggio sul ghiaccio e non solo e Zenobia storia di una bambina che è un tema molto attuale parla di migrazione e di quello che significa andar via da un paese per arrivare con tanta speranza in un altro e delle possibili conseguenze una graphic novel molto forte a livello di tematiche abbiamo poi due graphic novel della Becco Giallo Vincent Vadogh La tristezza durerà per sempre che parla ovviamente di Van Gogh ed è bellissima all'interno ci sono anche i quadri rivisitati se amate l'autore l'artista insomma ve la consiglio idem Il mio Salinger che parla proprio di Salinger famosissimo autore americano vi consiglio se volete approfondire di più la storia di questo autore poi abbiamo Cattive Ragazze 15 storie di donne audaci e creative che sulla stessa scia di Indomite o Fan Magnifique parla di donne che sono state importanti per la storia abbiamo poi tre fumetti di tre case editrici diverse Torna Tom Gold con Moon Cop Poliziotto Lunare molto simpatica Lettere d'amore da 0 a 10 per edizioni sonda bellissima dolcissima una storia di amicizia famiglia e non solo e i rompiscatole storie di giovani eroi senza mantello che in realtà è un romanzo grafico un po' come i gatti della scrittrice ci parla di appunto eroi che possono ispirare i giovani torniamo a parlare di Bao con Laura Dean continua a lasciarmi dolcissima graphic novel adolescenziale con tematiche importantissime a ondate di A.J. Dango una delle mie graphic novel preferite letta quest'estate ci ho pianto sopra e si parla delle tematiche veramente molto importanti mentre ci si dà anche informazioni su quella che è la storia del surf al sole come i gatti che se siete di Roma o amate Roma vi straconsiglio e stelle o sparo di Nova che è una nuova autrice Bao e ho avuto anche il piacere di incontrarla la sua storia è molto particolare e mi è piaciuto un sacco sempre per la Bao della colana cinese abbiamo Night Bus di Zuo Ma non mi fece impazzire e non ho ancora letto di Golo Zhao né Reverie né Soul Guide invece ho letto Non è te che aspettavo di Fabienne Toulmet in cui si parla di sindrome di Down in una storia dolcissima autobiografica dell'autore ci sono poi questi le Heart Edition in quattro volumi della prima serie delle Witch quindi i primi dodici fumetti con Mirkandolfo che ha contribuito con le cover e alcuni contenuti extra all'inizio voi sapete che io amo le Witch proprio ultimamente vi ho fatto un video in cui spacchetto tutti i fumetti delle Witch che mi sono stati mandati da una mia amica che io avevo perso durante un trasloco magari ve lo lascio nelle schede e ovviamente tutti quei fumetti non ve li mostro perché purtroppo per mancanza di spazio sono in una scatola sotto al mio letto quando avrò una libreria più grande li metterò in bella mostra per ora ci sono questi quattro volumi vorrei mostrarvi gli ultimi fumetti se ci riesco possiamo farcela Cinder? che dici? ce la facciamo? non ce la facciamo gli ultimi fumetti sono Loop di Simol Stalenag la bambina che parlava i libri di Stefano Benni questi due non li ho ancora letti mentre l'ultimo fumetto che mi mostro l'ho letto ed è Dolcissimo il giorno specialissimo di Barlo Bando non importa se ami una coniglietta o un coniglietto un fumetto importantissimo da far leggere a tutti i bambini e con questo concludiamo questa parte del Bookshelf Tour dedicata ai fumetti ebbene quindi questi quasi tutti i fumetti che posseggo vi avevo già fatto vedere i manga che sono in alto in alto la libreria in realtà quei manga si è unito anche in Uyasha comprato di recente e niente questi tre scaffali dedicati ai fumetti spero vi siano piaciuti spero che il video vi sia stato utile in qualche modo vi abbia tenuto compagnia fatemelo sapere nei commenti vi ringrazio per ogni commento like condivisione iscrizione sono piccoli gesti che aiutano un sacco il mio canale davvero fatemi sapere se questa parte di libreria vi piace spero tanto di sì noi ci vediamo alla prossima parte del Bookshelf Tour con Shadowhunters finalmente e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao